Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1 in direzione Bologna, un chilometro di coda tra il bivio di Firenze Nord e Calenzano per un veicolo in avaria. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. Sulla FIPILI per intervento di riprissino, frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare nel tratto al chilometro 79 direzione Livorno. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo a Mozzano a causa di una frana. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!